Parte domani nella città di Salerno il nuovo piano di interventi per la potatura degli alberi. Già prima delle critiche e delle polemiche sollevate dai banchi dell'opposizione, l'ultima delle quali con un reportage fotografico a firma del consigliere Roberto Celano, che mostrava gli alberi nelle case di numerosi cittadini, l'amministrazione comunale di Salerno aveva predisposto i prossimi interventi deliberandoli all'interno di una riunione della giunta comunale. La mappa di intervento è nelle mani dell'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, che oggi in giunta ha portato anche una proposta per la manutenzione delle piante all'interno dello cimitero di Salerno. Sì, domani riprende il programma dell'appalto biennale. Noi avevamo terminato la quota 2023 nei mesi scorsi, poi ovviamente nei mesi a seguire in estate abbiamo completato la nostra azione un po' con la squadra di operai del comune. Domani riprende un'azione incisiva avendo fatto un'estensione del contratto come per scrivere la norma e abbiamo stirato un programma con l'ufficio verde pubblico di lunga durata. C'è il programma 2023 che prevede il completamento fino a fine anno di una serie di strade da manutenere e poi c'è il programma 2024 che prevede una serie di altre cose da fare in città. Ovviamente associata a questa azione dell'appalto biennale c'è sempre l'azione dei nostri operai, del nucleo di operai comunali che sono pronti all'uso per interventi di piccola entità. Cominceremo con il recupero di interventi nella zona centrale via Diaz, via Manzo, via Balzico che era rimasta fuori dalla manutenzione rispetto alla vecchia programmazione e poi ci sono una serie di altri interventi nella zona orientale e il completamento delle zone di passere. Insomma abbiamo un utito programma di interventi che poi magari sarà anche variabile a seconda di criticità che possono esserci e sarà ovviamente di settimana in settimana proposta ai nostri concittadini per una giusta informativa sulle attività da fare. Quale priorità? C'è anche via Posidonia dove era caduto un pino e dove non si era potuto intervenire per la mancanza della strumentazione adeguata? Sì, avevamo un intervento in qualche modo in sospeso, abbiamo messo in sicurezza l'area, l'albero non è da battere ma sarà fatto un intervento per completare quella zona di via Posidonia come anche altre zone. È ovvio che non c'è la possibilità e la capacità di intervenire dappertutto sempre e nello stesso periodo anche perché a seconda della tipologia di alberatura è necessario ed è possibile intervenire o meno in alcuni periodi dell'anno. Il lavoro però che è stato fatto dall'ufficio è un lavoro organico che guarda anche a una programmazione di lunga durata ma anche a un censimento che è stato fatto delle alberature per avere contezza del numero certo di quello che noi andremo a fare. Aggiungo poi un altro intervento importante che sarà portato tra l'altro oggi in giunta che è la sistemazione del cimitero cittadino che viene gestito da qualche mese dal settore ambienti quindi abbiamo un programma ad hoc che riguarda la messa in sicurezza delle alberature del cimitero quindi oggi ci sarà la delibera di giunta poi partiremo con una gara ad hoc per completare entro fine anno anche questo lavoro. Grazie a tutti.